Dal punto di vista umano sono molto legato a Cantù, infatti è sempre stata un'emozione, si è visto forse i primi sette, io stesso ero un po' emozionato, ti dico la verità, giocare nelle mura di casa ad avversario non è mai semplice, poi abbiamo ritrovato il bandolo della matassa e siamo riusciti a portare a casa due punti importantissimi. Partita bella, emozionante, attrattitesa ma sempre con grande spirito, cavalleresco tra le due formazioni. Sì, certo, di certo non avevi provato a contestare un punto con i compagni con cui ho giocato un anno intero insieme, non si poteva fare ovvio, ci sta magari il momento agonistico ma cinque secondi dopo ti passa e pensi solo alla partita. Una vittoria arrivata così può essere molto importante per voi in termini di punti sicuramente ma anche della puntuità psicologica. Noi sì, venivamo da una partita persa non bene, cioè male, possiamo dire male e questa sicuramente ci dà una bella carica per affrontare le grottazioni la settimana prossima e puntare a riprendere un po' di punti in classifica. Grazie mille Ale. Grazie a te.